I dividendi piacciono a tutti, un po' come la pizza. La notizia è che questa pizza è cresciuta, tanto e faggola. Ma cosa sono i dividendi? Sono una quota, parte dell'utile di una società per azioni, che viene distribuita a titolo di remunerazione del capitale investito. Acquisti le azioni alla data stabilita incassi il dividendo. In effetti non suona bene. Potremmo dire che più gli affari vanno bene, più il dividendo cresce. Ma non è necessariamente così. Ci sono aziende che deliberano un alto dividendo proprio per rassicurare gli investitori in momenti meno brillanti. O anche aziende che non distribuiscono dividendi. Nell'ultimo anno i dividendi in Italia sono cresciuti del 17,9% rispetto all'anno prima, del 23,3% considerando i dividendi straordinari. Sì, perché esistono anche i dividendi straordinari. Aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e distribuibili in qualsiasi momento dell'anno. È così che nel 2023 sono piovuti sulla testa degli azionisti italiani circa 18,5 miliardi di euro. Se poi i dividendi li reinvesti, li usi come moltiplicatore. Aumenti il capitale e ti prepari ai dividendi successivi, che saranno calcolati su una quota maggiore. Leggi l'articolo per saperne di più.